Buonasera, buonasera a tutti, ben arrivati e vi do il benvenuto a questo appuntamento dei flash d'arte e ci occuperemo di un argomento particolare, usciamo dall'ambito del patrimonio museale per occuparci di un patrimonio più urbanistico perché è importante, è importante per noi, dei musei civici e per gli amici di Palazzo Tè soprattutto che ci sostengono in questi eventi. Qui a Palazzo San Sebastiano, al Maca, ci troviamo in un palazzo costruito nel Cinquecento proprio sulle mura della città, su quella che era la porta della Pusterla, dove adesso vedete Viale Risorgimento era la Fossa Magistrale, quindi il corso d'acqua che ci separa dall'Isola del Tè, che distava da Palazzo San Sebastiano solo un tiro di balestra, come sapete. Quindi l'ingresso monumentale all'Isola del Tè, che fino agli anni Trenta del Novecento resta, era costituito dai portali delle Aquile, sia da questo lato che dal lato quello che trovate verso lo stadio. Per noi nel percorso del Principe le Aquile sono piuttosto importanti, ma i visitatori spesso si chiedono se fanno parte del progetto di Giulio Romano o se no, di questo poi ci parleranno i nostri ospiti. Io su questo cedo adesso la parola all'architetto Carmine Mastromarino, dirigente dei lavori pubblici, che ha qui il ruolo di padrone di casa, e ci racconterà i lavori che sono stati fatti proprio quest'anno sui due portali delle Aquile, che sono le emergenze architettoniche importanti del Parco del Tè, che come sapete tutto è stato riqualificato. Prego. Grazie Veronica, buonasera a tutti. Cercherò di essere molto breve perché credo che a voi interessino prevalentemente i contenuti dei restauri, piuttosto che il mio racconto, che vorrà essere soltanto una panoramica su quello che è stato realizzato negli ultimi due anni, praticamente sull'area del Tè, che è diventato un po' il fulcro delle principali trasformazioni della città. Con il Parco del Tè, a corollario dell'intervento del Parco, è stato realizzato il primo intervento di restauro della porta, quella lato, diciamo così, lato stadio, mentre questa che è prospicente viale risorgimento è inserita nell'ambito di sette interventi finanziati con il PNRR su opere che sono tutte in corso di riqualificazione della Palazzina Liberty, dell'ex Bocciodromo, la realizzazione dei due sottovia ferroviari di collegamento ciclopedonale con il quartiere di Tebrunetti, quindi finalmente la demolizione della barriera invalicabile della ferrovia, nonché la riqualificazione delle aree da Piazzale Montelungo fino completamente al Viale delle Aquile. Sono interventi molto articolati, molto complessi, quindi una pluralità di finanziamenti con un unico obiettivo, quello di cambiare una parte della città, perché tutti quanti voi avete anche più memoria del sottoscritto probabilmente, ricordate che solo qualche anno fa l'area del Tè erano dei campi di calcio di cui uno utilizzato, ma il resto erano in uno stato di grande abbandono. Qui con me ci sono l'architetto Ferretti e l'architetto Rossi, che sono due funzionari del settore lavori pubblici, che hanno seguito rispettivamente i due interventi. L'uno, l'architetto Rossi, quello della Porta delle Acquite, lato Piazzale Montelungo, l'architetto Ferretti, questo lato Viale Risorgimento, che o adesso o a fine dell'intervento architetto Nashig, che è l'unico filo conduttore di tutta questa operazione, perché ha progettato entrambi gli interventi e diretto entrambi gli interventi, vi potranno poi eventualmente illustrare alcuni aspetti un po' più di dettaglio sugli importi, la durata di queste cose qui, che però credo che in questa fase forse non interessano neanche più di tanto. Grazie. Buonasera, grazie a voi per la presenza, per la fiduciosa presenza. E allora, il primo ringraziamento al dottore Saghizi, di Rettrice dei Musei, per avermi dato questa opportunità di raccontare quelle che sono state le mie aquile. Dunque, veniamo al titolo. Mi chiede Veronica che titolo dare all'intervento. Allora penso a tu per tu con le aquile. E perché a tu per tu? Intanto perché quando seguo un cantiere di restauro penso sempre alla fortuna che ho nel potermi avvicinare a parti di un'opera che se non ci fossero i ponteggi non potrei mai accostare e che parimenti mi piacerebbe che in tanti potessero toccare e avere la fortuna che ho io. Inoltre, da terra è difficile percepire quelle che sono le reali dimensioni di un'opera, sia un'opera scultore o pittorica, mentre, sempre grazie all'utilizzo dei ponteggi e i cantieri, effettivamente accostandosi sia la possibilità di vedere effettivamente le dimensioni rispetto a quello che è il rapporto con la figura umana. Quindi sempre un vis-à-vis. Quindi da queste considerazioni, da questi pensieri e da qualche scatto fotografico, anche scherzoso, come potete vedere, che ho effettuato durante il restauro, mi è venuto in mente il titolo di questo intervento. Devo ringraziare l'architetto Mastromarino, l'amministrazione comunale e la persona dell'architetto Mastromarino per avermi dato questa possibilità, per avermi affidato l'incarico relativo appunto al progetto del recupero di questi due portali, che per me vogliono anche dire un ricordo, perché ho vissuto per più di trent'anni a poche centinaia di metri da lì, perché da bimba giocavo nei giardini del tè, perché la scuola materna e la scuola elementare sono state le scuole Kennedy, che ora hanno lasciato il posto al parcheggio che il comune ha realizzato di fronte in Viale Primaticcio e quindi per me è stato anche proprio un legame con quello che è un ricordo di infanzia e la mia vita. Ecco, allora il sottotitolo reca il nome di due protagonisti, se immaginiamo una scena teatrale, di quelli che sono i due protagonisti di queste due opere, Giovanni Antolini, Giovanni Antonio Antolini e Gaetano Muttoni. E più ricordo che sono passati effettivamente 125 anni dalla conclusione di questi manufatti, quindi che nulla hanno a che vedere con l'epoca di costruzione del palazzo. Allora, chi era Giovanni Antonio Antolini? Certo non era l'ultimo arrivato, assolutamente. È un architetto originario di Castel Bolognese che addirittura nel 1801 presenta a Napoleone il progetto per il Foro Bonaparte da realizzarsi a Milano e attorno al castello Sforzesco. Sarà un progetto di gran, molto importante, che tuttavia non troverà la luce perché è reputato eccessivamente costoso. Cioè nonostante rimane un'opera che a livello di studio rimane importantissima. Lo stesso Antolini dal 1803 al 1815 insegna la cattedra di architettura dell'Università di Bologna ed è proprio mentre insegna a Bologna che viene chiamato a Mantova nel 1805. Con la restaurazione nel 1815 dovrà riparare a Milano dove insegnerà all'Accademia di Brera fino al 1841, anno della sua morte. Nell'immagine precedente si vede un ritratto dell'Antolini e due disegni appunto del Foro Bonaparte, dei particolari e la planimetria del Foro Bonaparte. Di Gaetano Mottoni sappiamo molto molto poco purtroppo. Sappiamo che già dalla fine del 1400 moltissimi lapicidi e scultori che provengono dalla zona del lago di Lugano emigrano verso diverse località, tra cui Verona. La famiglia dei Mottoni è una di queste e ritroviamo proprio Lorenzo Senior Muttoni e Gaetano a Verona già alla fine del 700. Di Lorenzo Senior, il padre di Gaetano, possiamo ricordare le due statue, i due telamoni che affiancano il portale del Palazzo Vescovile a Mantova. Di Gaetano è rimasto poco. Sappiamo che ha realizzato i bassorilievi per quello che è l'unico obelisco ancora superstite presente ad Arcole, in provincia di Verona, realizzato per Napoleone Bonaparte nel 1810. Gaetano Mottoni sarà colui che realizzerà le aquile dei nostri portali. Allora abbiamo parlato dei due attori principali, ma qual è la scena in cui si svolge il tutto? È il pubblico passeggio del tè. Dopo la caduta dei Gonzaga si rinnova l'interesse per il palazzo, sia sotto il governo austriaco, poi sotto il governo francese. In particolare dal 1777 i terreni che sono di pertinenza del palazzo vengono concessi in uso alla colonia agraria per delle colture sperimentali e i giardini vengono abbelliti ed adibiti a pubblico passeggio. Mancano però, come ricordava anche la dottoressa Ghizzi, i due portali a conclusione dei due viali alberati verso Porta Pusterla, vedete qui, in questa planimetria del 1823, pubblicata, in questo caso la pubblicazione è tratta dal volume di Claudia Bonora Previdi, e verso Porta Cerese. Allora ricordiamo appunto nel 1805 Antolini inizia a occupare, viene chiamato a Mantova mentre a Bologna, ed inizia a occuparsi sia di quella che è la piantumazione di queste aree, vediamo ad esempio una lettera in cui schizza proprio le distanze che vanno mantenute fra i filari degli alberi ed indica anche quali essenze devono essere piantumate. Nel 1808 fornisce il progetto per i due portali che inizieranno nel medesimo anno. Allo stesso, tra l'altro, ricordo, era riferibile anche il progetto dell'ippodromo. A questo punto, per partire con il progetto, si inizia con quella che è un po' di ricerca da archivi, un po' di ricerca storica. Non prima, certo, di aver visionato quelle che sono le fonti già edite in proposito. A questo proposito ricordo e ringrazio immediatamente sempre Veronica Ghizzi per avermi segnalato immediatamente la pubblicazione dei disegni originali dell'architetto sull'opera monografica del Belluzzi relativa a Palazzo T. Quindi, bibliografia senz'altro, ho citato appunto l'opera monografica del Belluzzi che cita e racconta sommariamente insomma anche di queste opere. C'è il testo di Claudia Bonora Prevdi sui giardini e i parchi mantovani e senz'altro anche la figura di Ugo Bazzotti che ha tracciato molto bene l'immagine del nostro architetto. Oltre a questo però ho voluto comunque sondare quelli che sono i documenti presenti presso i nostri archivi, in particolare l'archivio di Stato di Mantova e l'archivio storico comunale di Mantova, perché poi a seconda chiaramente degli interessi che ciascuno studioso ha, certi particolari possono essere più o meno rilevanti. E quindi sono andata a scartabellare fra la documentazione, in questo caso si tratta di lettere, tra l'intendente, in questo caso l'Antolini, scusatemi, Antoldi per i beni della Corona e il nostro architetto. E cosa troviamo? Vediamo che nel marzo del 1807 l'architetto riceve una missiva in cui gli si chiede con impazienza il disegno dei pilastri ai quali debbon si attaccare i cancelli d'entrata e uscita del Giardino del Tè. Siamo appunto nel marzo del 1807. Nel marzo del 1808 l'intendente dice che sono stati fatti costruire le fondamenta dei pilastri, quindi un anno dopo, per i cancelli. Ed è stato fatto approntare tutto, i marmi necessari, per costruirli secondo il disegno dell'architetto Antolini. Vediamo qui in particolare il primo disegno. A sinistra vedete il primo disegno dell'Antolini che rilascia e poi un secondo. Il secondo, torno indietro un attimo, è perché l'Antolini stesso dopo l'inizio della costruzione si lamenta, scrive dicendo che non sono stati disposti dallo scalpellino i blocchi in pietra come da suo disegno. E inoltre lamenta il fatto che l'altezza dei blocchi stessi sia decisamente inferiore a quella che lui aveva previsto. Dice proprio, sono parole sue, si è preso nello scalpellino tutti gli arbitri possibili e ha deformato il mio disegno. Dice ci sarebbe tutto da rifare, comunque si può correggere con accrescere uno strato di pietra prima di arrivare all'architrave. Quindi aggiunge, vi compiego un altro disegno con una nuova distribuzione di pietre. Il secondo disegno è appunto quest'altro, in cui non so se si riesce a leggere compiutamente, comunque se nel primo i blocchi erano cinque, nel secondo sono sei fino ad arrivare all'architrave. In questo modo risolve la questione che comunque fa rimaneggiare il tutto, e comunque fa rimaneggiare il tutto perché i blocchi comunque sia non erano disposti secondo il suo disegno. Mancano ancora però nell'ottobre del 1808 i rastrelli di ferro e di quattro, i grandi e di quattro piccoli già indicati nel preventivo. Sono terminati però i pilastri nell'ottobre del 1808 e si chiede sempre all'architetto un disegno preciso sia per i cancelli, sia, si chiede allo stesso, sia se si sia determinato a porre al di sopra dei due portali delle aquile ed in quale proporzioni. L'Antolini stesso dice che ha comandato di fare il disegno dei cancelli e che sono assolutamente necessarie le quattro aquile. Vedete quest'altro disegno sempre commissionato dall'Antolini che raffigura a questo punto i portali probabilmente già realizzati ed i cancelli che dovevano essere realizzati, oltre alle lunette. Allora purtroppo, lo vedete dall'immagine a fianco, sono andati perduti i cancelli piccoli che dovevano chiudere le porte a dove attualmente in genere transitiamo come pedoni. Mentre rimane ancora in opera su entrambi i portali il cancello principale ed anche due delle lunette che probabilmente dovevano essere quattro. A questo punto interviene il nostro scultore, l'apicida Gaetano Muttoni. Il 6 dicembre del 1808, quindi, per completare i portali non mancano che i due aquiloni, in realtà sono quattro, scrive Antoldi, e dice di aver ricevuto diversi progetti, però il più limitato nel prezzo è quello del signor Gaetano Muttoni di Verona, motivo per cui viene scelto lo stesso, il quale il 3 dicembre firma il contratto e si obbliga a fare le quattro aquile entro quattro mesi, di pietra resistente all'acqua, nominata verbalmente di San Mattia dei Monti del Veronese. Molto probabilmente si tratta della pietra di Avesa, comunque di una pietra che è molto simile alla pietra di Vicenza che era stata utilizzata per i blocchi sottostanti. Giunge l'autorizzazione all'esecuzione delle aquile dall'intendente generale e il 26 gennaio del 1809 Gaetano Muttoni sigla il contratto e nel contratto è scritto che saranno in pietra capace a resistere a qualunque intemperie di stagione senza essere coperte, con la garanzia e responsabilità per anni tre. Ecco tutto qua. Il 16 maggio lo scultore diceva l'ultima rata e quindi le opere sono sicuramente concluse e siamo appunto nel 1809, 125 anni fa. La ricerca d'archivio presuppone anche la ricerca di documentazione iconografica e siamo fortunati perché con un'opera dell'Ottocento abbiamo a disposizione anche la fotografia. In questo caso vedete, l'ho acquistata sul mercato antiquario, questa che vedete a sinistra, il nostro portale quando ancora c'era la porta Porta Pusterla. Vedete quest'altra immagine a destra che raffigura quello di cui vi ha raccontato Veronica Ghizzi. In questo caso tra l'altro vedete che erano state tamponate sia una lunetta sia una porta di accesso. E tra l'altro, adesso non si vede molto bene, ma ingrandendo molto bene la fotografia sono riuscita persino a verificare che alcune forme di degrado di un blocco in pietra erano già presenti allora. In questo caso siamo sicuramente prima del 1905 perché nel 1905 avviene la demolizione della porta stessa. Queste altre due immagini si riferiscono sempre alla stessa porta, al portale nord, questo verso Palazzo T, ed appartengono alla seconda metà del Novecento, in un caso con la neve, nel secondo caso probabilmente in occasione di un intervento manutentivo del cancello stesso. Per il portale est ho trovato quest'altra immagine che è catalogata ed appartiene alla collezione Baratta ed è riferibile agli anni tra il 1950 e il 1965 ed apparteneva allo studio calzolari di Mantova. Ma la ricerca non è finita in questo caso. Abbiamo anche tutta una serie di documenti che ci raccontano di quello che è stato poi il vissuto dei nostri due portali, cosa ci riferiamo, ai restauri, comunque agli interventi manutentivi che si sono susseguiti. Anche in questo caso è stato di grande aiuto l'archivio di deposito del Comune di Mantova, in cui ho reperito due dei faldoni che riguardano in particolare i due interventi. E cominciamo ad avere anche qualche dubbio su quello che sono i nostri aquiloni garantiti dal muttoni per tre anni, giusto? Allora, cosa succede? Nel 1951 la Società per il Palazzo Ducale di Mantova, a firma dell'allora Presidente, il Conte Alessandro Magna Guti, chiede un'elargizione al Comune per poter restaurare le quattro aquile in pietra che sovastano i propilei, che stanno agli ingressi rispettivamente est e nord del Viale del Tè, e unisce il preventivo dello scultore Bergonzoni, personaggio noto a Mantova, scultore famoso. Lo scultore rassegna un preventivo che contempla tre diverse ipotesi. L'esecuzione di tre aquile in pietra di Vicenza, la stessa esecuzione di due aquile più una restaurata, sempre in pietra di Vicenza, e l'esecuzione di tre aquile come sopra ma in pietra artificiale, cioè cemento e macinato di marmo. Il 4 maggio del 1952 l'ufficio tecnico del Comune di Mantova segnala che le tre aquile, a detta dello scultore Bergonzoni, sono ultimate e perciò pronte per essere collocate in opera. E qui abbiamo il primo mistero perché sinceramente ho provato anche a contattare la figlia dello scultore che allora era bambina, che è ancora vivente, vive a Torri del Benaco e allora era bambina ma non ricorda nulla di questo episodio, eppure l'archivio del padre è andato disperso durante i diversi traslocchi che ha subito. Però a questo punto ci chiediamo quali delle aquile che noi adesso vediamo e su cui siamo intervenuti, quali sono ancora del Muttonis, ammesso che ce ne sia una, quali di Bergonzoni, eccetera, eccetera. Ma non è finita. Siamo nel 1987, un'interpellanza al Comune di Mantova preme affinché vengano restaurate nuovamente le quattro aquile in pietra e non solo, anche i portali. L'interpellanza viene ripresa, la segnalazione viene ripresa nel 1988 dal presidente della circoscrizione, l'architetto Francesco Caprini. A questo punto l'ufficio tecnico del Comune di Mantova redige il progetto di restauro, è quello che vedete raffigurato nell'immagine, e nell'aprile del 1989 viene inviato per l'autorizzazione alla soprintendenza. Quindi sono gli anni in cui si hanno i maggiori restauri del palazzo, di Palazzo Te, sono gli stessi anni. Il progetto viene approvato e viene incaricata del restauro la ditta Morseletto di Vicenza, ditta che esiste ancora, esistono i figli che ho contattato per avere qualche informazione, ma anche in questo caso la ricerca non ha prodotto nessun esito purtroppo. Questa ditta specializzata in lavori di restauro in grado di eseguire l'aquila mancante. Aquila mancante, in effetti lo vediamo molto bene nel disegno, quest'aquila non c'è. Ma quale sarà l'aquila che realizza la ditta Morseletto a questo punto? Il mistero si infittisce. Non sappiamo più effettivamente che cosa abbia fatto il Muttoni, che cosa Bergonzoni, che cosa Morseletto, però noi ci siamo occupati di quello che abbiamo trovato noi, parlo per me, ma chiaramente mi riferisco a tutti i restauratori che hanno lavorato sull'opera. Allora partiamo con quello che è il progetto di restauro, il progetto di conservazione. A partire dai primi rilievi, sono due piccoli manufatti per cui i rilievi sono stati fatti manualmente, con il metro, la cordella, poche cose, con una scala a cui arrivare alle porzioni più alte, d'accordo, con degli schizzi e di questo ringrazio tantissimo un architetto, Lisa Veronesi, che mi ha aiutato e ha collaborato con me per questa prima fase. Il progetto per avere l'iter autorizzativo per ottenere il nulla osta da parte della soprintendenza di Mantua. In questo caso ci sono state vicine, ci hanno sempre supportato, anche con sopralluoghi successivi, le funzionali responsabili, nelle persone della dottoressa Ari Amato, dell'architetto Giulia Bressan e della dottoressa Deborah Trevisan. Quindi ottenuta l'autorizzazione per entrambi i progetti, si è partiti con quello che è il cantiere di restauro, i cantieri. Prima il cantiere delle Aquile Est, ovvero sia quelle verso lo stadio, e poi il cantiere del portale delle Aquile Nord. Per approcciarsi ad un progetto di restauro bisogna cercare di conoscere quanto più possibili i materiali su cui ci troviamo a lavorare. In questo caso abbiamo la pietra di Vicenza, abbiamo detto, questi blocchi. È una pietra calcarenitica, abbiamo detto, in cui è fortemente presente la componente fossilifera. Si tratta di foraminiferi, piccoli fossili del diametro dei numuliti, del diametro di circa 5 mm, che purtroppo, se da una parte generano questa specificità della pietra che è molto bella, è una texture veramente incredibile, dall'altra creano delle differenze composizionali e conseguentemente anche nel degrado significative. Vi ho messo quattro esempi, quattro fotografie di diversi blocchi, anche a testimoniare la diversità anche solo cromatica di questa pietra. Infatti in fase di restauro dicevamo che è una pietra camaleontica, da qui anche la difficoltà, poi ve ne parlerò brevemente, nel trovare quella che potesse essere la formulazione migliore per la malta di stuccatura. Quindi nella prima immagine vedete questa texture caratterizzata dalla presenza di fossili, analogamente nella seconda immagine dove il degrado differenziale chiaramente ha fatto maggiormente emergere proprio i fossili che hanno una composizione diversa da quella che è la base della pietra, che è una componente calcare, mentre i fossili hanno una componente a prevalenza silicea e quindi molto più resistente nei confronti dell'aggressione di acque particolarmente acide come sono quelle dei nostri ambienti urbani. In questo caso, nella terza immagine, riuscite forse a vedere ancora poco quelli che sono i segni di lavorazione della pietra, lavorati manualmente con la gradina. Anche nell'ultima immagine si legge qualcosa, ma chiaramente il degrado purtroppo ci porta via anche tutti questi che sono i segni di lavorazione dei lapicidi. È una pietra che, soprattutto nel portale nord, si è degradata in modo incredibile, con forme di disgregazione e di alveolizzazione che vi faccio vedere in queste immagini. Sono forme che se fosse una parete di roccia farebbero impazzire i climbers perché chiaramente sono delle vere e proprie prese monodita, come le chiamano loro, per cui farebbero veramente la gioia di chi arrampica, ma nel nostro caso creano non pochi problemi di penetrazione chiaramente dell'acqua che in questo modo può continuare a lavorare e a disgregare la pietra. Oltre a queste forme avevamo anche, in questo caso le immagini sono prese dal cantiere del portale delle Aquileste, delle forme di esfoliazione e disgregazione per lamine parallele. Lo vedete da questa immagine dell'architrave. Ma non è solo una questione di degrado superficiale. Il pesante cancello e i movimenti del cancello stesso avevano fratturato in modo consistente i blocchi di pietra, lo vedete qui, praticamente fino a terra, rischiando sia su una faccia sia sull'altra, rischiando la possibile caduta di frammenti consistenti dei blocchi stessi. E qui siamo sempre nel portale Nord e abbiamo potuto vedere che un'ala, ad esempio, era stata interamente ricostruita con un impasto cementizio. Allora ci vengono anche a mente le parole nella lettera, nel preventivo dello scultore Bergonzoni, che ipotizza il rifacimento di un'aquila intera in Malta. Però non abbiamo la firma di questo. Sappiamo solo che in questo portale un'ala è stata interamente rifatta ed è un impasto cementizio al cui interno, siamo riusciti poi a vederlo perché un frammento era caduto, al cui interno c'era un tondino di ferro liscio, chiaramente a fare da sostegno, a fare da supporto. E nel portale delle Aquile Est un'aquila intera l'abbiamo ritrovata, realizzata in questo stesso materiale e con lo stesso procedimento, quindi con queste sorta di ferri d'armatura. Passiamo all'altro materiale di cui sono costituiti i portali, la muratura in mattoni pieni faccia vista. Che problemi di degrado abbiamo riscontrato? Scagliature dei mattoni, mancanza di Malta nelle fughe, nella volta perdita la cune di quello che è la stesura d'intonaco, che lascia intravedere la tessitura muraria, e infine crostenere. Crostenere che non creano problemi solo a livello estetico, ma nel momento in cui si staccano si vede perfettamente che la superficie del mattone è deteriorata, è polverulenta, perché portano con sé anche la prima parte proprio della pelle cosiddetta del mattone stesso. Ed ancora attacchi biologici, patine, biologiche, licheni, muffe e quant'altro, fino a crescita vera e propria di vegetazione infestante fra i giunti della muratura stessa. Infine quello che è il degrado antropico. In particolare l'abbiamo ritrovato, e le restauratrici hanno fatto non poca fatica ad asportarli, nel portale delle Aquile Est, quindi graffiti vandalici di chi passava e si divertiva con le bombolette a lasciare la propria firma e il proprio segno. Finalmente arriviamo a quelli che sono i due cantieri di restauro. Il primo cantiere, vi dicevo, quello del portale delle Aquile Est, che ha avuto una difficoltà in più, oltre a quella di tutte le forme di degrado che abbiamo trovato, ossia il meteo. Per cui vedete benissimo che ad un certo punto le Aquile è stato necessario aprire un paio di ombrelloni per far sì che i prodotti utilizzati non evaporassero all'istante e che quindi anche il sole non creasse danni ulteriori anche in fase di restauro. Perché i lavori si sono, per accelerare anche, per far sì che il restauro fosse completato in concomitanza con il parco, si è lavorato nei mesi estivi, nei mesi più caldi, luglio, agosto, persino con orari che le restauratrici hanno modificato arrivando in cantiere persino alle 5 di mattina, per far sì che le temperature troppo elevate non creassero, appunto, problemi e non impedissero determinate lavorazioni. Per il cantiere del portale delle Aquile Est ricordo il direttore dei lavori, l'architetto Matteo Rossi, che è qui di fianco a me, il coordinatore della sicurezza, il geometro Antonio Fabri, e l'impresa di restauro affidataria dei lavori, Zoe Restauri, di Giovanna Gola. Non so se Matteo vuoi... No, diciamo che, appunto, un applauso, lo voglio fare appunto... A Giovanna Gola, appunto, che ha sopportato un caldo estremo in questi giorni, alle funzionari, alla dottoressa Amato e a Deborah Trevisan, che sono uscite in orari veramente incredibili durante un caldo incredibile di luglio, per arrivare alla conclusione dei lavori, fondamentalmente, della prima parte, nei tempi utili per il Parco T. Quindi questo, diciamo, è stato veramente un motivo di grande orgoglio, di grande, e di grande, diciamo, soddisfazione, penso per tutti. Ecco, questo secondo me è importante. Poi l'architetto Nashik sicuramente ha spiegato nel modo perfetto, e più dettagliato possibile, il lavoro effettivo di restauro che è stato effettuato. Dall'altra parte, il cantiere nord è stato funestato da piogge battenti e temperature molto basse, per cui è stato necessario sospendere i lavori, perché le malte sotto i 10 gradi è bene non usarle, e anche il consolidante per la pietra. Per questo cantiere ricordo il RUP, il responsabile del procedimento, l'architetto Mauro Ferretti, il coordinatore della sicurezza, l'ingegner Gianfranco Ballin, e l'impresa affidataria, RWS Restauri di Vigonza. Mauro, se vuoi aggiungere... Ma sai, noi come funzionari... Ho fatto un cantiere PNRR, quindi... Sì, come funzionari del Comune, se mi permetti la battuta, facciamo il lavoro meno interessante, poi alla fine rispetto a quello che hai espresso bene tu. Io posso solo dire, ecco sì, che questo intervento, che dal punto di vista economico non è importantissimo, perché parliamo di 90-95 mila euro. Lo è però se visto all'interno di tutti gli interventi che prima ha citato l'architetto Mastromarino, cioè che vanno a riqualificare tutta l'area del T. Quindi all'interno di tutti quei progetti, di tutti quegli interventi che in parte sono anche già iniziati, siamo riusciti a estrapolare questo progetto perché la normativa di settore ce lo consentiva, quindi abbiamo fatto questo intervento senza doverlo appaltare con tutti gli altri interventi perché il legislatore si rende conto che per questi tipi di interventi è necessario avere delle professionalità e delle imprese particolari. E quindi anche questa è stata una scelta che ci era consentita dalla norma ma che è stata poi vincente perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, io a parte i ringraziamenti che mi associo a quello che ha detto Matteo, non ho altro da aggiungere. Ecco, grazie. Se non siete stanchi faccio una breve carrellata su quelli che sono stati effettivamente gli interventi a questo punto prendendo fotografie dell'uno e dell'altro cantiere perché poi alla fine tante analogie hanno avuto. E in questo caso vediamo l'applicazione, la prima fase, l'applicazione del biocida e la successiva spazzolatura per la rimozione di tutti questi annerimenti che voi vedete che altro punto non sono che patine biologiche, attacchi biologici. Nuovamente l'applicazione del biocida perché deve essere lasciato riposare e quindi non avevamo ancora la possibilità di montare i ponteggi e si è intervenuti con una piattaforma elevatrice. Il primo saggio di pulitura, di rimozione delle patine stesse. Qui una paziente restauratrice che lavora anche nello zoccolo basamentale e che nuovamente purtroppo anche adesso lo vediamo sottoposto a questi attacchi ma il tentativo è stato fatto ed una serie di utensili, in questo caso tutte spazzole di diversa durezza, di diverso materiale tanto per farvi capire che a seconda della situazione veniva utilizzato uno o l'altra. Chiaramente sulle superfici maggiormente degradate si cercava di non perdere materiale e quindi si andava con spazzole molto più morbide dove la superficie lo consentiva, lo stato di conservazione lo consentiva anche con spazzole di durezza superiore. L'applicazione di impacchi a base di carbonato d'ammonio per la rimozione di croste nere quindi vedete l'operatore con la maschera proprio per utilizzare chiaramente per evitare che questi gas potessero danneggiarlo chiaramente sono impacchi di polpa di carta poi su cui viene applicato il polietilene per evitare che l'evaporazione del solvente avvenga troppo velocemente. La formulazione di malte e qui so che ho fatto tribolare veramente i restauratori di malte per le diverse stuccature necessarie quindi riuscite a vedere almeno quattro campioni fatti solo per i blocchi in pietra ulteriori due campioni per i giunti fra i blocchi in pietra e altri quattro campioni ma non sono, vi posso assicurare, tutti quelli fatti per i giunti fra i mattoni. Perché? Perché come vi dicevo la pietra è camaleontica e quindi si provava un materiale asciutto poi se da una parte funzionava da un'altra parte risultava troppo chiaro, troppo scuro. Io ho sempre preteso e mi hanno seguito la formulazione di impasti in cantiere il che vuol dire quello che si faceva una volta non usare premiscelati quindi non aggiungere semplicemente l'acqua ad un sacco di polveri miste che un'azienda ti propone no, utilizzare la testa utilizzare le capacità e la manualità e l'esperienza dei restauratori e metterla a frutto per la formulazione di impasti che non ci inventiamo niente i trattatisti l'avevano già scritto come andavano fatte d'accordo in questo caso si trattava di calibrare polveri di pietra e sabbia di diversa granulometria di diverso colore per riuscire ad arrivare a quello che doveva essere il risultato ottimale per la stuccatura della pietra e anche per i giunti per cui con pazienza miscelando la calce e le diverse polveri si è ottenuto quello che era l'impasto che non è stato solo uno ma ne sono stati utilizzati più a seconda della situazione per riuscire a far sì che non venisse una cosa troppo impattante quindi si è proceduto sulle murature in mattoni con l'asportazione in questo caso di tutti i giunti di rifacimento cosa significa? Questi restauri soprattutto probabilmente questo degli anni Ottanta avevano utilizzato materiali non del tutto congrui che adesso la soprintendenza non accoglierebbe di buon grado in questo caso ad esempio i giunti erano stati rifatti con un impasto che conteneva anche resina e oltretutto erano sopra livello quindi si staccavano molto facilmente e debordavano sul mattone stesso quindi sono stati pazientemente asportati con martello e scalpellino e sono stati rifatti altrettanto pazientemente con una piccola spatola come vedete in questo caso dall'altra parte sui blocchi in pietra analogamente sono stati asportati qui vedete una vecchia stuccatura che sotto presenta proprio il cemento addirittura e sopra aveva questa stuccatura più superficiale che era completamente sia fuoritono sia contenente resina quindi sono state asportate ed è stata abrasa la superficie in cemento per poi con la malta che è stata formulata in cantiere sono state effettuate appunto le stuccature lavorate in modo tale da rendere il meno percepibili possibili ma uno dei grossi problemi abbiamo visto nel portale nord era anche la frattura di questi blocchi che sono stati fissati consolidati resi ancorati a quello che era il nucleo ancora buono per così dire e per questo devo ringraziare l'ingegner Davide Cavalieri che ci ha supportato nel vero senso della parola perché ha anche supportato i blocchi stessi con il suo progetto per cui sono state fatte queste piccole perforazioni sono stati una volta ottenuto l'autorizzazione anche dalla soprintenza per questa variante sono stati inseriti dei piccoli delle piccole barre in acciaio inox ad aderenza migliorata che hanno fatto sì che hanno fatto in modo di collegare la porzione staccata al resto sono state fatte chiaramente poi delle iniezioni per fissare le barre stesse e l'ultimo intervento sempre nel portale nord è stato il fissaggio anche di queste porzioni dell'ala in pietra che risultavano completamente staccate una volta reincollati i due lembi abbiamo ritenuto di mettere questa sorta di bretelli che probabilmente da terra in certi momenti si vedono di che cosa si tratta è un piccolissimo trefolo inox è una cosa veramente di pochi millimetri rivestito a sua volta da un tubicino di polietilene per evitare che l'acciaio stesso possa graffiare la superficie della pietra e sono due piccoli sostegni giusto per dire se per caso ci dovessero essere dei movimenti e l'incollaggio non dovesse essere sufficiente ecco i due pezzi di ala fratturati non cadranno da nessuna parte ecco ed è un intervento del tutto reversibile non ci fidavamo in questo caso ad inserire dei perni perché lo stato della pietra era talmente decoeso che sarebbe stato veramente un andare contro la sua natura stessa in questo modo riteniamo di aver comunque preservato l'incolumità di chiunque passi di sotto ecco abbiamo pure ricollocato il ricciolo che molto gentilmente la dottoressa Ghizzi ha raccolto dopo che era caduto poco prima che iniziassimo il cantiere per cui il ricciolo del cancello come vedete è stato ricollocato e tutto è andato è andato a posto non vi ho raccontato del consolidamento che è stato fatto alla pietra ma perché poi magari comunque in entrambi i portali chiaramente per queste forme di disgregazione di decoesione della pietra sono state tamponate diciamo così con questi con questi prodotti che abbiamo che abbiamo adesso e che sono considerati i migliori consolidanti dopodiché è chiaro che nulla tutto è buono e tutto ha comunque qualche contro si cerca di il male minore per così dire vi volevo solo far notare una cosa insomma non si è voluto è stata una scelta di cui mi assumo la totale responsabilità cancellare totalmente i segni del tempo quindi in questo caso abbiamo il portale delle Aquile Nord che recava queste queste forme di degrado così severe non si sono volute cancellare cosa vuol dire cancellare? non ho ritenuto di stuccare e di dare completamente uniformità e planarità nuovamente alle superfici in questo caso perché sarebbe stato come voler togliere le rughe ad una signora di una certa età allora ce le teniamo cerchiamo di frenare i segni del tempo di frenare quello che può essere il degrado quindi ripeto con il consolidamento con la protezione che abbiamo dato questo protettivo che fa sì che l'acqua non penetri certo ha una durata non probabilmente un po' più dei tre anni che aveva garantito il nostro muttoni per le sue acuile 5-10 anni è chiaro poi andrebbe riapplicato sono tutte cose che si possono fare ecco però la scelta è stata proprio di stuccare il minimo possibile proprio per non voler ricreare una superficie che ormai non è più quella sostanzialmente e quindi l'epilogo è così una carrellata veloce su quello che è la parte sommitale prima e da conclusione del restauro sia per le aquile nord sia di un portale sia dell'altro portale ed ora allora il restauro pone mano non solo abbiamo visto all'opera del primo artefice ma anche a tutta la storia che ne consegue quindi abbiamo messo le mani abbiamo detto sul muttoni ma forse anche su coloro che hanno realizzato forse le altre aquile eccetera eccetera su coloro che hanno restaurato le altre superfici e mette mano anche sull'incuria umana abbiamo visto i segni chiaramente lasciati dai graffitari e su quelli della natura ma si restaura anche per ritrovare cosa abbiamo ritrovato ad esempio dei piccoli segni che noi dei piccoli lacerti che noi abbiamo deciso di conservare in accordo con la soprintendenza per cui abbiamo scoperto ad esempio che le superfici in mattoni presentavano dovevano presentare probabilmente in origine un sottile strato di intonachino uno scialbo a sua volta dipinto a finto mattone di cui si vedono dei piccoli lacerti qui che abbiamo mantenuto e forse le stesse superfici in pietra dovevano essere in origine dipinte si vedono anche qui dei piccoli lacerti forse per voler dare un'uniformità rispetto a quella che appunto era un'eterogeneità comunque della naturale della pietra stessa finisco ho finito ma con l'ultimo pensiero che secondo me il restauro dovrebbe cedere il passo a quella che è la conservazione chiamiamola manutenzione programmata manutenzione ordinaria che per questi manufatti tutto sommato sarebbe anche possibile abbiamo visto che con una piattaforma elevatrice si arriva facilmente e dovrebbe essere continua ecco questo è sempre il mio auspicio quindi si conserva per riuscire a mantenere il restauro dovrebbe essere sempre solo l'estrema razio ecco a questo punto ringrazio gli ultimi ringraziamenti vanno necessariamente a tutti gli operatori perché il restauro è un lavoro corale e qualsiasi cantiere è reso possibile grazie alla maestria pazienza e esperienza di tutti gli operatori e quindi a me a loro va il mio ringraziamento per il restauro del portale est a Giovanna Gole e ai suoi restauratori e per il restauro del portale nord a tutti i restauratori di RWS grazie a voi grazie mille alla fine va il sentito ringraziamento perché ci occupiamo no ma va benissimo ci occupiamo degli artisti di una volta ma anche degli artisti attuali e restauratori alla fine continuano questo lavoro io vi ringrazio davvero tutti per la sensibilità di questa opera siamo abituati a avere a che fare con i lavori pubblici nei cantieri delle grandi opere pubbliche ma anche per quanto riguarda i restauri dobbiamo andarci a fondo e questa è stata un'occasione anche per capire tutto il lavoro lo studio e retroscena che ci stanno dietro a un recupero così importante quindi vi ringrazio per la sensibilità che è evidente dai risultati ma che avete dimostrato in questo incontro vi chiedo se avete delle domande c'è una domanda forse una domanda scontata però io mi sono sempre chiesta se questa porta era effettivamente una porta per entrare nella zona del tè oppure se era semplicemente decorativa nel senso che di fianco si può passare tranquillamente oggi no? ma forse un tempo c'erano delle mura non lo so no no allora le realizzano proprio per concludere questi viali che altrimenti per dare uno sfondo una quinta una quinta scenografica questo è scritto anche nei documenti dopo è evidente che si può passare da una parte e dall'altra però c'è proprio questa volontà di voler chiudere in qualche modo dare una conclusione ai due viali ecco questo è quanto i documenti riportano delimitava di fatto dal punto di vista architettonico sì sì percorso esatto su questo posso aggiungere che probabilmente la forza magistrale creava creava già una barriera sino a quella che oggi è Porta Cerese quindi non c'era bisogno di un muro c'era l'acqua io volevo dire un paio di cose velocissimamente l'ala spezzata tanto per intendersi dovrebbe essere stata provocata da un fulmine negli anni 80 ricordo come cronista che seguì questa cosa nell'allora probabilmente andando a spulciare giornali c'è stata più sensibilità da parte dei cronisti visto il tesoretto che rappresentano le porte che diciamo le delibere piuttosto che l'osservazione degli storici e compagnia una cosa molto importante è anche l'estetica lo stile l'impatto che hanno nella storia dell'arte locale i quattro che sono quattro portoncini delle acule come li chiamano i mantovani tanto è l'atterraggio qui del cosiddetto stile impero che è molto importante e io personalmente è una sensibilità un po' obliqua la mia rimango sempre molto affascinato al di là delle acule imperiali napoleoniche da Zeus con il fulmine tra gli artigli da questa lunetta che si estende sopra l'architrave più larga di quello che la porta è quasi metafisica questa cosa e tutto si mantiene in un equilibrio che è secondo me tipicamente veronese come architettura diciamo napoleonica e poi imperiale regia austriaca se volete che c'è un collegamento e poi si sposa perfettamente con quello che è Palazzo Tè che è fatto di mattoni ed è fatto di finta pietra mentre questa è naturale tutto qua grazie grazie a lei è una parte delle osservazioni a cui pensavo le ha già dette l'amico Scansani ma io chiedevo la pietra di Vicenza è la cosiddetta pietra gallina no? sì quindi quella anche del pluteo della chiesa di San Sebastiano di San San Andrea è stata utilizzata tantissimo in diversi edifici mantovani adesso non ultimo mi viene in mente qui ci sono anche dei funzionari della provincia le cimase di Palazzo delle Finestre del primo piano di Palazzo di Bagno piuttosto che alcuni elementi a Palazzo Sordi ricordo una balaustra del balcone di Palazzo Sordi forse non del balcone ma le balaustre delle finestre del primo piano di Palazzo Sordi ecco allora veniva utilizzata per la facile lavorabilità sostanzialmente perché rispetto alla pietra di Verona che pure è una pietra calcarea sedimentare ma che non ha la presenza di questi fossili e che non ha comunque una componente sabbiosa chiamiamola così è molto più facilmente lavorabile ha una durezza che però è bassissima è una resistenza meccanica bassissima in più questa eterogeneità fa sì proprio che gli agenti cioè se noi utilizziamo la pietra di scusate il cosiddetto marmo di Verona la pietra di Verona che poi è la pietra di Prunna lì il problema sono solo le cosiddette venature argillose dove si infila l'acqua e lì abbiamo le spaccature chiaramente i sollevamenti magari a scaglie però è molto più dura è molto anche più difficile da lavorare in questo caso se noi pensiamo soprattutto alla lavorazione per un'aquila o elementi come balaustre magari elementi tondeggianti così è chiaro che si lavora molto meglio perché vi ho fatto vedere anche i lacerti perché probabilmente spesso era già prevista una finitura io credo sia per dare uniformità e sia anche ai fini protettivi cioè per proteggere un po' questa pietra è chiaro che la prima cosa che chiaramente che viene via è proprio questa stesura superficiale che altro non è che uno scialbo di calce e quindi è il primo ad essere intaccato dagli agenti e per questo ne troviamo poi poche tracce anche perché poi chiaramente i restauri che si sono susseguiti hanno pulito chiaramente spazzolando magari anche in modo un po' più oppure con idropulitrici insomma ma infatti l'intonachino usato anche appunto nel 500 non aveva solo lo scopo estetico aveva anche uno scopo proprio protettivo ma per quanto l'altra domanda riguardava la protezione voi avete usato una sostanza per proteggere dall'acqua piovana allora mi chiedo questa sostanza impedirà anche ad eventuali aggressioni vandaliche di penetrare in profondità questa pietra così fra l'agile no no rispondo mi fa piacere sono rimasta angosciata dal vandalismo che si è stato fatto sulla pietra del liceo classico del portale allora no io non sono non sono entrata nel merito di questioni prettamente tecniche perché poi non sapevo non voglio tediarvi mi fa piacere la domanda il protettivo è un idro repellente quello che è stato utilizzato ormai ampiamente utilizzato da 30 anni nell'ambito del restauro dopo che ne sono stati testati diversi è stato avallato anche dalla soprintendenza era stato già applicato anche sui fronti principali di Palazzo T dopo l'ultimo restauro e che impedisce all'acqua di penetrare però non impedisce la traspirabilità dell'intonaco per cui insomma qual è il problema il problema è che comunque è destinato anche quello ad andare via dopo ripeto 5-10 anni perché comunque le sostanze che abbiamo sia nell'acqua sia nell'aria è chiaramente pian pianino purtroppo quello che dice lei per i graffiti in realtà sarebbe un altro protettivo diverso sarebbe un idroleo repellente perché deve impedire che le resine che compongono questi spray vadano a penetrare e in questo caso è un materiale diverso che dovrebbe garantire l'asportazione più facile del graffito stesso ecco no no noi non l'abbiamo utilizzato perché comunque crea un pochino di problemi diversi allora prossimità di umidità di risalita poi rischia di essere un pochino più lucido cioè di lucidare un pochino la superficie ci sono una serie di problematiche per cui noi abbiamo ritenuto soprattutto appunto nel portale est che a fronte dei lavori di riqualificazione a fronte degli impianti che sono stati messi anche di videosorveglianza eccetera insomma l'auspicio è che in questo caso vengano lasciate stare speriamo bene io vi ringrazio molto e vi do appuntamento il 13 di novembre con Stefano Scansani che è qui con noi per Ciottoli Mattoni e Città e ci occuperemo torneremo a occuparci del patrimonio mobile anche dei musei civici quindi vi aspettiamo con gli amici di Palazzo T che ci permettono queste conferenze vi ringrazio molto grazie 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 grazie